Se c'è una cosa che sicuramente noi abbiamo ben compreso nel corso del tempo noi ascoltatori di questo genere musicale è che ogni artista, a seconda ovviamente del determinato periodo che sta passando in quel momento cerca sempre in qualsiasi modo, in qualsiasi strategia di ritornare rilevante all'interno della scena o magari facendo musica totalmente diversa da quella che stava facendo prima quindi diventando commerciale tra molte virgolette o magari fai salmo che come ho citato l'altra volta nel video delle rap news serie che sto continuando a portare su questo canale dove appunto io davo tutte quante le mie considerazioni su come sarebbe stato Flop molte strategie di marketing che l'avrebbero fatto salire proprio alle stelle e indovinate un po' ragazzi è proprio andato alle stelle a distanza di neanche un mese dalla pubblicazione di questo disco è già subito diventato top 1 in Italia nel 2021 come disco più ascoltato ok sto parlando molto di salmo e poco inerente a quello che è l'argomento principale di questo video Flop è uscito da un bel po' di giorni e sono l'unico stronzo che non ha ancora reactato a quel disco detto in live che non avrei reactato ma avrei fatto una recensione a parte però se è veramente così bello ed è molto più ricco di contenuti rispetto a come è stato quello precedente ovvero playlist tanto vale reactarci allora e magari potrei farci anche una recensione approfondita dopo averlo ascoltato tot volte ma comunque questo qua è un video che si può tranquillamente connettere a quell'altro dato che si parla pur sempre di merchandising di quello che sarà un nuovo sviluppo all'interno di questo artista si parla ovviamente di The Supreme che come è successo dall'uscita del suo primo album in studio ovvero le basi fino ad arrivare a Bloody Man il volume 3 è stato in silenzio e proprio nel momento nel bisogno lo ritorna appunto sulla bocca di tutti ma come in particolare perché tra l'altro molti hanno supposto che tutta questa qua fosse un'opera di marketing che tutto quello che è successo non è vero ma innanzitutto prima di parlare appunto di come uscirà appunto questo nuovo single si presuppone un nuovo disco cosa è successo appunto per arrivare fin qui probabilmente pochissimi lo sapranno molti l'avevano preso un po' come troll nel senso non ci hanno neanche fatto caso che è successa questa cosa ma in realtà ragazzi sì è successa appunto questa cosa successa tra virgolette perché dopo tutte quante le considerazioni che vi darò probabilmente voi cambierete anche idea a pochissime persone che probabilmente avranno seguito il profilo ufficiale di The Supreme ma avranno visto tantissimi cambiamenti allora questa notizia risale a tot giorni fa però ho deciso di aspettare un po' così poteva avere molte più informazioni il profilo Instagram di The Supreme sembrerebbe essere stato hackerato e c'è anche la ragione specifica che ha anche detto Davide stesso Davide appunto il vero nome di The Supreme su Twitter appunto perché il suo profilo Instagram ovviamente è stato hackerato a quanto pare un qualsiasi hacker esiste anche il profilo ufficiale di questo hacker però non mi ricordo di preciso il nome ma che aveva inviato con un nome sconosciutissimo sull'email business di The Supreme una specie di link quel link ragazzi meglio se non lo apriva inutile andarvi a spiegare che sì adesso se vuoi andare a cercare The Supreme vedete che il suo profilo è stato riaperto è stato riacquistato però per me ragazzi non è mai stato hackerato il profilo primo se sei stato hackerato e lo dici su Twitter prima di tutto mandi gli screen per vedere se è vero e se non mandi gli screen vuol dire che magari o ti stai inventando una balla o perché ti sei scordato che potrebbe anche essere questa una possibilità però comunque una persona intelligente avrebbe fatto prima lo screen e dopo l'avrebbe condiviso due subito dopo aver ripreso l'account cioè ragazzi non proprio una settimana dopo ma proprio un secondo dopo che riprende l'account subito ragazzi esce il nuovo singolo il 22 stiamo parlando comunque di un periodo dove The Supreme veramente stava perdendo fama l'unico momento dopo le basi in cui lui stava avendo fame grazie appunto ai vari singoli presenti in Bloody Vine il volume 3 che per carità è comprensibile la situazione dato che per un rapper ovviamente la musica è la sua passione ed è anche un lavoro ovviamente quindi se lui fa questa cosa qua per passione e sia per lavoro e dopo non vede supporto come ce l'era prima da parte del suo pubblico tu potresti inventarti letteralmente qualsiasi cosa per ritornare in pista è inutile dire anche queste mie supposizioni non mi permetteranno di non godermi appunto questo nuovo singolo e poi andando avanti quello che sarà l'album completo anzi io trovo molto carini appunto questi teaser fatti appunto lui che parla con la sua vera voce col suo vero accento anzi fa molto più strano sentire appunto il vero The Supreme piuttosto che nelle canzoni cioè per dirvi è tutto quanto un altro mondo ah e mi sono dimenticato anche di dirvi una cosa molto probabilmente questo qua sarà un mixtape dopo Bloody Vine il volume 3 ha fatto uscire soltanto un pezzo che sarebbe letteralmente la versione rielaborata di Blunt e Sprite che è un pezzo veramente vecchio vecchio di Sphere e Basta ovviamente neanche sanno dirlo ha rifatto le strofe ha rifatto il flow da capo probabilmente il mixing era fatto molto meglio rispetto a quello che aveva elaborato Charlie Charles all'inizio e poi perché come faccio a dirlo senza andare pro alla pirateria ci sono stati dei leak di 20-30 secondi di lui che appunto ricrea basi e pezzi già esistenti quindi ragazzi non posso fare altro di dirvi che molto probabilmente sarà un mixtape adesso veramente il video finisce qua fatemi sapere ragazzi con un commento se vi piacciono queste tipologie di video se magari dovrei fare più rap news nel futuro e c'è anche questa serie che vorrei portare avanti con Mr. Simpatia perché Mr. Simpatia di Fabri Fibra a differenza degli altri che ho trattato è appunto una retro, retro nel vero senso della parola ha un po' cambiato il rap italiano in un certo senso comunque noi ci vediamo alla prossima lasciate like, commentate e iscrivetevi al canale condividete il video ciao ciao